ciao ragazzi ciao ragazzi oggi faremo mangiare le galline come adesso prima prendiamo il mangime ci vediamo fra poco ok ragazzi abbiamo già preso il mangime Matteo ve lo fa vedere sono tantissima adesso faremo mangiare le galline Matteo qua ragazzi adesso Matteo li farò mangiare sì anche io ecco qua sono tantissime vero bella mangiare facciamo la pioggia sì galline lo sto mettendo da piede è cattivo guarda 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 mettila guarda adesso li facciamo mangiare iiii guarda ti saluta ti saluta andiamo a avvicinarsi guardate com'è bello le galline guarda guarda vogliono la papa di semi guardate guarda guardate vedono anche i miei piedi ah che bello guardate Kirby che ti ha lanciato di mangiare saluta Kirby guardate guardate stanno proprio mangiando bene e non lì stagano dai ciao salutate anche voi salutate 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 e testini posso dai